Si trasforma in un razzo di stile con circuiti di mille valvole tra le stelle, sprinta e va Mangia libri di ciberletica, insalate di matematica e a giocare su Marte e va L'Uria espina nell'aria cosmica, è un miracolo di elettronica ma un cuore umano ha Ma chi è? Ma chi è? Raggi laser che sembra un pulmini, è protetto da scudi termici, sentinella lui ci fa Quando schiaccia un pulsante magico, lui diventa un'ipergalactico, lotta per l'umanità Grazie a tutti Grazie a tutti